Ciao a tutti, ciao a tutti miei cari amici, allora questo video avrei voluto farlo ovviamente la settimana passata, però almeno ci siamo e ho davanti a me questo atlante della terra l'ora di mezzo perché voglio fare un po' di tracing su delle mappe e spero che vi piaccia questo video, ma prima di cominciare volevo dirvi che per la prima volta sto usando un windscreen, cioè un paravento, ecco avete sentito il mio dito, spero che il suono non sia fastidioso e appunto questo è un regalo che viene dalla mia wishlist di Amazon e spero che il suono con questo paravento sia piacevole, quindi grazie, grazie Sharon per il regalo e adesso andiamo a vedere le mappe, allora ho scelto di fare tracing sulla strada della compagnia dell'anello a partire da prima ancora che si formasse da Vicolo cieco o quello lo traduce come Vicolo cieco, Peg and Casa Beckins nella contea fino alla fine del viaggio e in realtà in questo libro ci sono anche un sacco di mappe, come potete vedere, per esempio qui c'è la torre di Kirith Ungol, com'è fatta con i suoi vari livelli e le scale eccetera e degli spaccati assonometrici, non so voi ma io ho sempre amato, ho sempre amato le mappe, perché non lo so, forse per me sono più facili da comprendere a volte rispetto alle persone e quindi a volte mi rifugio nella sicurezza di una mappa ecco qua, ho avvicinato un po' il telefono in modo che io spero che voi possiate vedere meglio quindi il 23 di settembre, anzi la sera del 22 partono da Casa Beckins, Frodo, Sam e Pipino e passano una prima notte il 23 di settembre qui nei boschi a sud della contea e poi arrivano qui il 24 dove passano la notte assieme a degli elfi e poi c'è tutta quanta la corsa per arrivare al ponte sul brandivino e poi passano la notte a non mi ricordo come viene tradotto in italiano la notte del 25 e poi attraversano la vecchia foresta e passano la notte a casa di Tom Bombatil e poi la notte del 28 settembre e poi la notte del 28 settembre la passano nei tumuli lande all'interno di uno dei vecchi tumuli le tombe dei vecchi abitanti del regno di Arnor sconfitti dal re stregone di Angmar e poi l'ultimo tratto prima di arrivare a Brea o Brei come viene chiamato qui che è il 29 settembre in cui passano la notte qui a Brea nella locanda del puletro impennato di Omorzo Cactaceo e giusto da qui si è aggiunto anche Mary quindi Frodo, Sam e Pipino e qui c'è anche Aragorn o Granpasso poi nelle notti successive si allontanano da Brea stando lontano dalla strada e attraversano questa zona paludosa costantemente a passo costante fino ad arrivare la notte del 6 ottobre a Collevento Weathertop dove Frodo viene pugnalato dal capo dei Nazgul e poi c'è la fuga, il tentativo di arrivare quanto prima possibile a Granburrone che da partire dal 6 ottobre attraversano queste contrade poi c'è l'attraversamento della grande strada, della grande via Est viene chiamata scusate non mi ricordo esattamente la traduzione in italiano perché è da un po' di anni che quando rileggo Il Signore degli Anelli lo faccio in lingua originale quindi alcuni nomi italiani li ho dimenticati e poi arrivano a scoprire il campo dei troll quello che era, quei tre troll Perto, Maso e Cuglielmo che erano stati pietrificati durante l'avventura dell'Hobbit e poi infine trovano Glorfindel e non come nel film Arwen mi raccomando Glorfindel con il suo cavallo Asufel era il suo cavallo mi pare e qui c'è l'attacco ai guadi del Bruinen e infine arrivano a Granburrone il 20 ottobre e ci stanno fino al 24 di dicembre quando poi riparte la compagnia per intero Allora, questa è la strada da Granburrone vedete qui Rivendell o Imladris secondo il vecchio nome degli Elfi quindi abbiamo detto che stanno a Granburrone a Rivendell dal 20 di ottobre quando Frodo viene trovato, curato e guarito da Elrond fino al 24 di dicembre dopo il concilio di Elrond nella quale viene decisa la compagnia dell'Anello e quindi da Granburrone partono Frodo, Sam, Merry, Pipino, Aragorn, Gandalf, Legolas Kimli e Boromir e per ora qui ci fa vedere che quando c'è il triangolino nero vuol dire che il campeggio diciamo l'accampamento è notturno si riposano di notte mentre qui si riposano di giorno e viaggiano di notte al sicuro con l'oscurità e vediamo qui che c'è scritto è bellissimo il calendario Hobbit se non l'avete mai visto se non avete mai letto il calendario Hobbit ogni anno i giorni hanno i giorni del mese hanno lo stesso giorno della settimana e quindi non ci si può sbagliare io sono nata giovedì 30 aprile e secondo il calendario Hobbit ogni anno sarebbe giovedì 30 aprile a differenza dal nostro calendario e qui si vede che dopo il 30 di dicembre perché tutti i mesi hanno 30 giorni ci sono due giorni liberi che vengono chiamati Yule il primo giorno di Yule e il secondo giorno di Yule e poi ci sono altri tre o quattro giorni extra che non rientrano nella settimana dal lunedì alla domenica a metà anno circa quindi arrivano la notte dell'11 gennaio che provano a scavalcare il passo del corno rosso del Caradras ma falliscono e decidono di trovare la strada attraverso le miniere di Moria infatti qui arrivano alla porta occidentale il giorno 13 gennaio e poi passano praticamente ci mettono poco più di un giorno ad attraversare la città di Moria e escono dal cancello orientale la sera del 14 gennaio e infine la notte del 15 la passano su un flat nella foresta nel regno di Galadriel e di Celeborn a Lothlórien e passano la prima notte qui e poi vengono portati a Caras Galadon che è la capitale di Lórien del regno di Lórien e qui passano dal 17 gennaio al 15 febbraio poi Sire Celeborn e Tama Galadriel danno i loro regali alla Compagnia dell'Anello che deve ripartire sul fiume Anduin sulle parche e qui vediamo come sia molto più facile navigare andare avanti su delle parche che fanno 40 miglia ogni giorno fino all'arrivo al Sangebir dove devono spostare qua ci sono delle piccole cascate devono spostare le loro tre parche a piedi e poi passano i cancelli gli Argonat le statue di Elendil e di Isildur e infine arrivano vicino alle cascate di Rauros a parte Galen dove la Compagnia si divide e dove Boromir muore ed ecco qui la compagnia che viene divisa allora questo è il viaggio di Merry Pipino ovviamente ricordiamo che a Moria Gandalf era caduto nell'abisso per colpa della sua lotta contro il Balrog quindi dalla fine di Moria in voi Gandalf non c'era più e quindi la Compagnia dell'Anello si scioglie e questo è il percorso di Merry e Pipino poi vengono seguiti da Frodo eh scusate Frodo no proprio no vengono seguiti da Aragorn Legolas e Kimli correndo a piedi che fanno esattamente la stessa strada fino a qui qui dove Merry e Pipino hanno incontrato Barbalbero a Treebeard e dopo passano la notte nella casa di Barbalbero e poi dopo c'è lenta consulta da 30 febbraio perché appunto tutti i mesi hanno 30 giorni al primo di marzo e infine da qui gli ent marciano su Isengard dove vedono uscire una un esercito di orchi di Urukai che vanno verso il fosso di Elm ma questa non fa parte della storia di Merry e Pipino e dove qui assistono poi agli ent che assediano Isengard e riescono a intrappolare Saruman mentre Aragorn Legolas e Gimli li seguono seguono le loro tracce fino a qui quando quando trovano il falò degli orchi fatto dai cavalieri di Rohan dove erano stati bruciati i corpi degli orchi poi qui si rincontrano con Gandalf che era riuscito a tornare vivo dopo aver sconfitto il balrog e dopo essere diventato Gandalf il bianco e aver abbandonato la sua identità di Gandalf il grigio e da qui vanno diretti a Edoras dove vengono coinvolti nella guarigione di Sire Teoden e da qui poi partono verso il fosso di Elm dove c'è una delle battaglie più importanti della guerra dell'anello e finita la battaglia si dirigono a Isengard dove Aragorn Gimli Legolas e Gandalf si riuniscono Mary e Pipino ma durante il viaggio di ritorno qui in questo punto durante il viaggio di ritorno Pipino guarda nella pietra di Hortang e viene interrogato brevemente da Sauron e Gandalf quindi abbandona la pietra di Hortang la lascia nelle mani di Aragorn prende Pipino e galoppa il più velocemente possibile verso Minas Tirith e mentre da qui in voi Mary è con Aragorn Gimli e Legolas e con anche Sire e Deoden tornano al fosso di Elm e poi tornano dal fosso di Elm Aragorn Gimli e Legolas vanno avanti fino a Don Harrow mentre Mary con il re Deoden si dirige di nuovo prima a Eduras e poi a Don Harrow e qui allora c'è la strada di Aragorn Gimli e Legolas da Don Harrow fino a Minas Tirith e invece la strada che fanno Mary assieme a Eowyn e a Deoden la stessa strada verso Minas Tirith cioè la stessa destinazione ma percorso diverso infatti Aragorn attraversa i sentieri dei morti the parts of the dead fino alla roccia di Erek e come si dice richiama l'esercito dei morti da qui prende la strada per il mare arriva a questi come si chiama ha delle battaglie che non ci raccontano nel libro arriva fino al Pelarchir che sono degli antichi porti del regno di Gondor e qui sconfigge i corazzari e prende le navi e abbandona lascia libero l'esercito dei morti perché finalmente ha ha mantenuto la sua parola e quindi hanno pagato il loro debito antico di millenni e qui raccoglie gli eserciti di tutti quanti quelli che stavano combattendo da queste parti sempre a favore di Minas Tirith e Aragorn Legolas e Gimli partono per arrivare a Minas Tirith appena in tempo per per la battaglia del 15 17 di marzo mentre da Don Clivo qui il allora dice il 6 di marzo vediamo Mary questo e Mary partono arrivano arrivano a Edora 6 di marzo c'è la donata dei Rohirrim e poi partono 10 marzo 11 marzo 12 marzo 13 marzo passano attraverso la foresta di Druadan grazie all'aiuto di Gamburigan e poi e di tutti quanti i suoi uomini mi ricordo come si chiama il l'attributo di Gamburigan non mi ricordo e scusate e poi attraversano questo sentiero nascosto fino ad arrivare qui che si accampano il 14 di marzo pronti per la battaglia che si terrà la mattina del 15 marzo sui campi del Belenor qui passano alcune notti tranquilli più o meno perché radunano di nuovo un esercito quanto più possono dopo la terribile battaglia dei campi del Belenor e Aragorn guida questo esercito un po' in malarnese lo guida fino al crocevia e poi il 20 marzo il 21 marzo il 22 marzo il 23 marzo e infine la notte del 24 marzo davanti al Morannon le torri dei denti che dovrebbero proteggere l'entrata anzi l'uscita da Mordor e qui avviene la battaglia finale ma prima bisogna vedere il viaggio di Frodo e Sam sempre partendo dal 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 dove si era divisa la compagnia Frodo e Sam attraversano l'Anduin e a piedi cercano di attraversare gli Emin Muil poi infine incontrano Gollum proprio quando si erano persi e non sapevano più da che parte poter uscire e Frodo riesce a convincere Gollum gli fa promettere sull'anello senza fargli vedere l'anello ovviamente di aiutarli e qui Gollum li aiuta infatti Gollum che odia il sole li costringe a dormire durante il giorno e a muoversi durante la notte e attraversano le paludi morte arrivano il 5 marzo davanti ai cancelli del Morannon e qui vedono che i cancelli sono chiusi e da qui non possono entrare Gollum convince Frodo e Sam che c'è un'altra strada per entrare una segreta più sicura meno controllata e quindi li porta giù 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 attraverso le Silien e qui incontrano Faramir il fratello di Boromir che li porta a passare una notte nel rifugio di Eneth Annun infine si separano anche da Faramir e si dirigono di nuovo a sud arrivano al crocevia e attraversano la strada passano vicinissimi a Minas Morgul e infine salgono su fino alla torre di Kiri Tungol la notte fra il 13 e il 14 marzo dove Frodo viene catturato perché colpito da Shilob o Shilob come viene detto in inglese però per fortuna gli orchi litigano sulla cotta di Maglia Mithril che a Frodo si uccidono a vicenda e quindi Sam riesce infine a salvare Frodo e riescono ad uscire da Chiri Tungol senza più Gollum che li aveva traditi proprio nella tana di Shilob e da soli si dirigono a nord a nord a nord e poi scendono verso il golfo di Udun e infine vengono catturati dagli orchi non è esatto perché erano travestiti da orchi vengono scambiati per degli orchi e devono correre con loro fino all'accampamento dove poi riescono a scappare e da qui infine si dirigono a est a est e poi lungo la strada lenta difficile e inesorabile che li porterà fino al monte Fato dove passano l'ultima notte il 24 di marzo e infine il 25 marzo Frodo con il non aiuto di Gollum riesce a liberarsi dell'anello e l'anello e Gollum finiscono nel monte Fato dando il fine a Sauron questo infine è un riassunto da casa Beckins fino a Gran Burrone da Gran Burrone fino a Moria da Moria a Lorien fino allo scioglimento della compagnia qui scusate lo scioglimento della compagnia e poi le strade che si riuniscono infine davanti ai cancelli del Morannon e infine dopo l'incoronazione di Aragorn le strade devono dividersi di nuovo e ognuno deve tornare a casa partono insieme Aragorn fino a Edoras per seppellire il corpo di Teoden e assieme a lui ci sono anche Legolas e Gimli che arrivano fino a Isengard anzi prima si fermano ai fossi di Elm perché Legolas deve andare a vedere le caverne scintillanti assieme a Gimli e infine vanno fino a Isengard perché da qui attraverseranno la foresta di Fangorn guidati da Parpalbero per dirigersi nel reame boscoso e alla montagna solitaria assieme a loro ci sono anche Gandalf Frodo Sam Merry e Pipino e anche Galadriel e Elrond fanno tutta quanta la strada fino a Isengard e poi qui incontrano Saruman e Vermilinguo si dirigono fino al passo del Caradras dove Galadriel e Celeborn lasciano la compagnia per dirigersi per superare il passo del Caradras e andare a casa a Lorien e infine arrivano a Imlatris a Gran Burrone Gandalf Frodo Sam Merry e Pipino e stanno qui dal 21 settembre fino al 5 ottobre festeggiando il compleanno di Bilbo e poi si dirigono a casa arrivando a Prea il 28 e 29 ottobre e infine c'è l'ultima battaglia della guerra dell'anello la battaglia della Contea quando Frodo Sam Merry e Pipino riescono a far insorgere la Contea contro quei bruti portati da Saruman e infine Fermilingua uccide Saruman e poi dopo un paio di anni Frodo e Pipo Elrond Galadriel e Gandalf partono dai porti grigi per dirigersi alle terre imperidure so che questo video è durato forse un po' troppo ma spero che anche voi possiate esservi rilassati con queste mappe con questo viaggio attraverso la terra di mezzo spero di vedervi molto presto con un nuovo video un abbraccio e a presto